però già che sono già col sono mi appoggio un po faccio ancora un pigiolino e adesso faccio l'eggio e ma forse qui non stiamo tanto bene faccio ancora un padeggio non arrabbiate non arrabbiate non arrabbiate eccoci proviamo con il cemino ah 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 bene che garamano mi fai un preventivo di quanto devi dormire perché così mi so regolare non vorrei mica farmi come ieri sera ho un'ora intera mentre noto qui proviamo aspetta 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 che stai bene stai qui che devo vedere aspetta sono morto stai lì stai lì tranquillo non c'è niente da fare se non c'è la mia mano non devo stare ma perché che cos'è la mia mano piccola piccola e più grande è soporifera al cuoricino non si comanda e ma non essere gelosa insomma lei ama me insomma ah mia topina ma ma me basta ma che allora allora insomma ha una topina per bene non è una felifara ai fedeli prima oh è questa mamma no no non è più non è più sta bene non è più che lo potrebbe non è più che lì non è più che lì non è più che lì hai visto Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.